Le ricette di romantica, agnolotti al tartufo, dosi per 4 persone, cipolla 60 grammi, noce moscata, burro 80 grammi, farina 400 grammi, uova 4, per la sfoglia e per il ripieno crema di latte 2 decilitri, polpa di manzo a 300 grammi, sale, pepe per condire. Preparazione, in questo caso il ripieno si fa così, fate rosolare un poco con 40 grammi di burro, un pezzo di 200 grammi di polpa di maiale e un pezzo di 200 grammi di polpa di vitello, aggiungendo un pizzico di sale e uno di pepe, bagnando man mano con del vino bianco. A cottura tritate le due carni, mescolatele in una zuppiera con il loro stesso sugo e aggiungete 100 grammi di prosciutto crudo anche tritato, un uovo 60 grammi di tartufo bianco tritato, o più se volete, e parmigiano grattugiato quanto basta per ottenere un composto consistente ma morbido al punto giusto. Buon pranzo da romantica!